E' nel parlare a braccio nel corso dell'udienza in Vaticano ad una delegazione proveniente dal Salvador che Papa Francesco connota il martirio di Monsignor Oscar Romero di una dimensione nuova. Sottolinea che il suo sacrificio non solo si è consumato nella morte, ma è andato oltre. In molti, anche tra i suoi fratelli sacerdoti e vescovi, ricorda il Papa, lo hanno diffamato e calunniato, hanno sporcato la sua memoria. Solo Dio conosce storie di persone e molte volte per quelle che hanno dato la vita, la lapidazione prosegue con la pietra più dura al mondo, la lingua. Il sangue dei martiri, sottolinea Francesco citando Tertulliano, è seme per i cristiani, ancora oggi è testimonianza fruttuosa di santità, giustizia, riconciliazione e amore. Ma, come sosteneva Romero, si può avere uno spirito del martirio, ovvero dando la vita lentamente. Il martire, afferma il Papa, è un fratello, una sorella che continua ad accompagnare noi nel mistero della comunione dei Santi e che non ignora le nostre sofferenze e le nostre agonie. A poche settimane dal Giubileo della Misericordia, Monsignor Romeo è soprattutto per El Salvador uno stimolo per un rinnovato annuncio del Vangelo, aggiunge il Papa. Una spinta per la promozione e lo sviluppo della nazione, alla ricerca della vera giustizia, della pace vera e la riconciliazione dei cuori. L'auspicio del Pontefice è che il Paese cancelli la sofferenza di tanti a causa dell'odio, della violenza e dell'ingiustizia e che ognuno si santa fratello senza più differenze. Grazie a tutti.